Due cose da non fare mai con i colori per aerografo. Stai per mescolare due colori di marche diverse dentro il tuo aerografo. Non devi mai mescolare nel tuo aerografo colori acritici di marche diverse perché le resine e i pigmenti possono essere incompatibili fra di loro e ti possono inchiodare l'aerografo costringendoti a un lungo lavoro di smontaggio e pulizia. Ti è rimasto del colore inutilizzato dentro il serbatoio e lo stai rimettendo nel flacone. Non devi mai contaminare il colore di un flacone nuovo mettendoci dentro quello recuperato dal tuo serbatoio. Potresti inserire dentro dei piccoli residui estranei piuttosto recuperalo con una siringa in modo tale da riutilizzarlo in un secondo momento. Sono certo che con questi due semplici suggerimenti ti risparmierò un sacco di problemi. Ciao alla prossima!